Il gol che aumenta ulteriormente, il margine di sicurezza. Li stanno umiliando Pierluigi. Il pallone ha scheggiato la traversa e quindi si è insaccato. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Prendi da rete! Splendido il gol dell'angolo. Meraviglioso, il portiere non ha potuto far nulla, imprendibile. Un angolo di passaggio. Quella inì! E c'è il gol! Palla in rete! Un gol bellissimo, ha sorpreso il portiere con un tiro di rara precisione. Ha saputo calcolare il tempo giusto e ha trovato la rete. Niente da fare per i portieri. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Occhio a Razzar che avanza. De Bruyne. Bella la vertizione. De Bruyne! Il portiere devia involontariamente il pallone in porta. Sono scatenati adesso. Hanno preso le misure degli avversari per Luigi. Allora doppiato. Adesso sarà...